Proviamo ad immaginare ora che la coreografa è Lucrezia, quindi voi la seguite, ma cercare di immaginare dove guarda Lucrezia. Cosa facciamo? Improvvisiamo. Improvvisiamo? Rapidi. Rapidi, andiamo rapidi. Qual è la prima cosa che guardate, fate, pensate nel momento in cui mettete piede su un palco? Ci saranno tutti i segni? Io saluto i tecnici che da ore stanno lavorando per mettere sullo spettacolo. Avrò dimenticato qualcosa, è tutto a posto? Qual è la parte più difficile del vostro lavoro? Mantenere il fisico sano. Hai risposto lui? È un lavoro facilissimo, non c'è difficoltà alcuna. Da quanti anni è attiva la compagnia e quanti spettacoli avete creato? Qui rispondi tu. Il vento? Rispondi tu che hai le date. Abbiamo fatto 31 spettacoli, no, lo so perché me l'ha detto. 31 spettacoli e siamo attivi dal, a dire la verità, dall'89 e il 91 Terra Mara, ufficialmente dal 95. Molto bene, bravo. Come ci si sente a fine spettacolo rientrati in camerino? È una catarsi. Felici. Noi non entriamo in camerino. Chi si ricorda più? Rituale pre-post-performance. La cacca. Com'è? Com'è? Rituale pre-post-performance. Ah, post. Pre-la cacca. Pre-la cacca. Anche me. No, no, il post è la doccia. Doccia. Cacca e doccia. Qual è il vostro ingrediente segreto? Viagra. Anche per me. Ah, nel senso artistico, scusate, poesia, prima di entrare in scena leggo Leopardi, una cosa che c'è. Cosa non può mancare durante il processo creativo? Le stronzate. La pausa. La leggerezza. La leggerezza. Il giorno di pausa. Il giorno di pausa. E che tipo di training fate abitualmente? Allungamento abbastanza, cioè, tanto ma mai abbastanza. Io non lo dico perché sennò ci metto 20 minuti, sono poca al mente a dire, lei crea Io faccio training tutto il giorno, fino alla mattina e alla sera. Esatto. Ma, eh, treni, autobus, quello che c'è. Quello che c'è, esatto. Taxi col costo che ha un po' meno, ecco, però adesso con i treni non è male, si arriva in fretta. Anche per le offerte. Sì, esatto. Infatti, infatti. Fra dieci anni dove sarete? Alpima! Non si libereranno più di noi. Non si libereranno più di noi. Grazie a tutti.